Associazioni ambientaliste unite e compatte per partecipare il 12 marzo a questa importante manifestazione. Sì, il 12 marzo facciamo un appello a tutti i cittadini di Pescara ma anche di tutta la regione Abruzzo che hanno dovuto assistere in ermi alla contaminazione delle acque che non è un problema di questo periodo ma che è dovuto a 20 anni di incuria delle amministrazioni nei confronti della tutela dei fiumi e del mare. Ricordiamo che da dati dell'anno scorso a livello europeo il 2% delle acque sono inquinate mentre la regione Abruzzo presenta un dato allarmante che è quello del 20% del totale delle acque che presentano una qualità scarsa. Siamo in attesa a marzo delle nuove analisi che probabilmente se non confermeranno questo dato sarà un dato peggiorativo proprio dovuto al fatto che quest'estate c'è stato quel grave sversamento di liquami nel fiume e quindi nel mare e che ci sono stati tantissimi casi di patologie come l'impetigine che hanno afflitto i cittadini pescaresi.